Ciao, come ti chiami? Alberto Macarroni. Di dove sei? Daniele. Ok, quale è il nome della strutturità di idea? Matt Mura. Il primo mi chiamava? Strotta. Ok, e cosa tratta? È un'applicazione che consente di trovare persone che fanno gli stessi percorsi, gli stessi orari e di entrare in contatto con voi. Ok, buon lavoro. Grazie. Ciao, ciao.